Ed eccoci qui, ultimo episodio della serie, della campagna di Battlefield 1 perché gli episodi andranno avanti quelli, beh, quelli di multiplayer ci saranno lo stesso Un azzaro disperato contro la belva ottomana Hmm, riusciremo a distruggerlo oppure no? Vedremo Ci sta... Eh, vaffanculo, ma sei una... Eh, ma va, 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 dai, dai, dai Maledetto E ora? Lo sei Ci manca una testata ora Ok, ci manca solo... Morirà stanotte Ma ho qualche dubbio Ma sei un pirla Ma sei un pirla, dai Non si può muire così Non è poss... Non è... Non è umanamente possibile Farsi ciavare così Sì, però adesso siamo... Eh, sì, però adesso siamo fregati E qual è trovato il cavallo? Beh, per trascinarci avrà trovato un modo Non penso che sia venuto qui a piede anche lui Eh, è già passato... Eh, è già passato? E ti ho detto io Spacca le rotaie E sei a posto che cazzo Ci scavi un fosso dopo E ci cade Va bene Eh, ho detto anch'io Va bene Eh, sì Va bene Adesso possiamo andare a far saltare il treno? Dai che, dai Che voglio far saltare qualcosa in aria Qualcosa Passano così veloci i giorni Sono... Tre secondi Oh, sentite che sentite quanto è bella la musica araba Che è No? Ahah, sto ridendo Dai Tentiamo Perché mi ricarica in automatico? Vabbè, vabbè Oh, oh Prima di poter viazare No Questi qua Distruggi tutti i veicoli Ok, distruggiamoli Però Però Come facciamo? Binoculo Via col binoculo Va bene Me ne sono quattro Guarda che Vado a identificare di tutti Me li ha identificati in automatico Eccolo là E lì ce ne sono qua Lì? Di lì? Ah, ti ho visto Che peccato E io adesso Ti ho 18 Piano piano Via Tà Preso Il mio primo headshot Questo qua è un sasso Mi sto mettendo Mi sto mettendo a guardare le texture Vedete che Conto di quanto sono annoiato Ora 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 Vado lì Nella Nell'accampamento E vediamo cosa posso fare Ossia Sempre che non ci sia nessuno C'è nessuno Passare a Ok Bene Cassa delle armi Dinamite No No Non ho una buona esperienza Granata anticarro Sì Con questa qua Una buona esperienza Come facciamo qui? Passiamo dal fianco Come sempre Sperando che non ci sia nessuno Non c'è nessuno 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 Bene Nell'accampamento Perfetto Quello che mi serve Il problema adesso È Arrivarci Non penso Sarà difficile Ma Allo stesso tempo Sarà difficile Esattamente Se ne è già accorto uno Qua invece Ah È dinamite In mezzo a nulla Così Dov'è sto qua? Ma sto qua Mi sa che fa un giro Diverso Oppure Oppure E Vabbè Vai 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 S'è incastrata C'è una palma qua No Non dire niente Se l'abbia No No Non ci credo Non ci credo Non Non se ne sono accorti No Oh Nessuno dei due Che se ne è accorto Che li ho ammazzati Uno dietro l'altro Vabbè L'unico L'unico che forse Se ne è accorto Nemmeno Nemmeno Beh almeno Siamo riusciti a Vado Mantieni per Vabbè ma avvertimi Che esplode Però E io non me ne aspettavo E mi dice Ti è così Esplosivi a tempo E a tempo E mezzo secondo Via 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 Grazie adattanti Ah cela in automatico Via Scappia Attacco Facciamo un attacco Mordi e fuggi O almeno così ho letto In una descrizione Mentre mi ammazzato Mentre mi hanno ucciso Ascrito mi attacchi Mordi e fuggi Sono quelli migliori Per i beduini E io sono un beduino o no sempre che io sia un veduino beh si ci suicidiamo non è esploso o almeno così sembra e si vabbè sono come pulci qui sono dappertutto oppure 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 ma ho granata anticaro infinite che è tieni tieni ah l'ho distrutto figata ci ho messo mezz'ora prima per 10 giorni una adesso tutte e tre in due secondi libera il villaggio dai no questo no questo no e allora tanto vale che lo facessi prima no a questi non ce ne sono ancora poracci poracci tac ho visto un'esplosione poco rassicurante ossia wow che dribbla ennesimo mordi e fusi io passo da una stradina all'altra ossia sopra non sai salire le scale che cavallo sei ti addestrano per far che mangiare fieno e basta a rubare fieno qua c'è qualcuno nella via e ancora ma perché si buga sto cavallo ok che non sono un asso nel guidare un cavallo e qua 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 sono abituato come se fosse una macchina che sterzo mi aspettava tutto d'altra parte ah ma dopo un po' non è che stanno costantemente in allerta penso penso è andando avanti così prima o poi li faremo fuori tutti non so entro quanto se volete far tanto è parte sbagliata quello era corazzato e l'ho sciottato con un e l'ho matato con una sciabolata sciabolata morbida dai e tang tang si mancava solo questa piano 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 ecco lì vedo qualcosa di o forse è solamente un no no è un è un cavallo oppure una una macchina oppure un un tank ma non penso sia un tank no e adesso devo girarmi col cavallo mi versi una U però le sciabolate si devono allora non mi lamento perché col cavallo ecco il cavallo ammazzo tutti però potrebbero depotenziarlo un pochino ci sono gli sono passato ho investito non è che l'ho colpito con la sciabola vai 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 ultimo 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 via finiti obiettivo completato bene già ho distrutto una città da solo da solo premio nobel per la braccia e ovviamente le cariche adesso arriverà il treno tutto rabbioso ah si può dentro un cannone grande come tutto il treno metà treno è solo cannone perché sotto rimangono i sottotitoli ah no sono spariti sono spariti dai voglio vedere che esplode fallo esplode fallo fallo soddisfacente soddisfacente ora esploderà tutto no vedi eh non lo distruggi oh cavolo cosa dovrei fare io beh dinamite ma veramente ho un'idea pazza ma un'idea oh mio dio quanto danno di faccio ora no ora dobbiamo scappare scappa 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 giù 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 oh mio dio una roccia è implosa ma non è spero che non mi arrivi addosso mi ha sfiorato dobbiamo andare a prendere esplosivi copritemi copritemi però fatelo però fatelo cavolo eh grazie apri la cassa granata adesiva non ce la faccio nulla con le granate adesive io ah oh te le mettono proprio così a posto lancia razzi proprio quello che mi serviva thank you dove è andato dov'è il treno ah eccolo lì dai che ti vengo a prendere tu fermo oh 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 dannato te non riuscirai mai a eh devo anche ricaricare giusto però spara di quei razzetti eh spara piano 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 questo qua mira a me questo stronto mira a me questo stronto mira a me stiamo giù stiamo giù mi raccomando prendiamo il sole e preso il sun ahia no non ammazzarmi non ammazzarmi non ammazzarmi non puoi colpire le rocce io sono parte della roccia ma chi è che mi sta sparando in realtà eh non può sparare attraverso le rocce penso i miliziani i miliziani addirittura sarebbero l'impero sarebbero l'impero ma ma dai che devo recuperare vita fammela recuperare porca puttana dove è una casa una casa una casa vai 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 via via ok siamo sicuri abbastanza vai ora ho finito le munizioni cosa faccio giusto carica adesiva non ci penso proprio qua cos'è un anti tank scommetto dai anti tank stiamo giù stiamo giù stiamo giù l2 punta col mirino come se non sapessi usare un'arma che 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 mi stai prendendo la tank questa qua ho appena preso è un'arma antiveicolo non poteva non potevano metterla in un momento migliore devo stare giù però è troppo è troppo eee non si vede puntano a me perchè sanno che io li posso distruggere bene ma non benissimo eh però peccato che va a colpi peccato però però toglie toglie per essere un'arma un'arma comune vai stiamo prendendo danni a un ritmo impressionante via fatto ora dobbiamo solo recuperare la vita è cazzato il treno eh no vienimi a prendere vienimi a prendere vivo viva beh viva perchè il personaggio è una donna quindi vienimi a prendere vivo e carica lo stiamo distruggendo a colpi di a colpi di arma antitank che non è un lanciarazzi ma dai dai manca pochissimo ultimo colpo ultimi due colpi ultimo colpo ultimo date a me l'onore date a me l'onore no l'hanno fatto fuori prima beh era ora che disordessi il treno eh è la decima volta che si provo ma non ci credo ancora a colpi di un semplice fucile beh semplice fucile antitank l'ho distrutto non con gli esplosivi strano beh dai sono l'ultima missione la vendetta può essere acre o dolce per te che sapore ha Zara è uno sprezzo guarda di che sei uno sprezzo vuole il sapore lì e ora dico sempre e ora la fine di una missione sapendo che finisce sì ma quello che è morto di più sono io non tu mi dicevi forse potresti rimanere solo a cazzo sono morto 30 volte eh dimmi eh galleggiano e sparano fine navi da guerra al termine della grande guerra gli otomani erano ormai estromessi dall'arabia l'impero britannico e la francia venero però meno le promesse sull'indipendenza araba stronzetti e non mi piace il deserto troppo grande sì T. il l'onore se resta una figura controversa la guerra per il petrolio prosegue ancora oggi in effetti sì lo sappiamo che tutti fin troppo bene è finita? è finita è finita è finita ci sono rimasto male non per la missione ma per il fatto tipo che la campagna voi non so vedete ma la campagna l'ho cominciata l'altro ieri e l'ho finita oggi o almeno l'altro ieri due tre giorni fa cioè oh wuzo allora ho l'impatto di questa campagna è stata Anna tipo cos'è? un messaggio al team di battlefield in coloro che in mestra di coloro che hanno prestato servizio no guardiamolo gioca capitolo oggi combattiamo no beh una bel finale a sorpresa ce n'è una in più ce n'è una in più quindi ricordatevelo il prossimo episodio sarà questo decisamente quindi nulla è scritto non è l'ultima missione ma ne manca ancora una e spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire l'ultimo episodio di questa serie e ciao a tutti